E allora amici sportivi, su indicazione del Presidente federale si disporrà un minuto di raccoglimento prima dell'inizio di tutte le gare dei campionati in programma oggi, 10 febbraio, fino al 13 febbraio compreso per commemorare le vittime dell'immane tragedia che ha colpito Turchia e Siria. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.